Il turismo a Venezia va sempre di moda e a dirlo sono i dati. Dopo due anni di un settore gelato dalla pandemia, la città torna a crescere insieme al turismo di tutto il territorio. Venezia sta andando molto bene, ma tutto il comparto turistico è cresciuto in questo anno, soprattutto in estate. Le città d'arte sono cresciute, non solo Venezia, ma anche le altre, chi più chi meno. E ovviamente questo ci riporta alla luce vecchie tematiche come l'hoverturism e quindi la discussione anche sulla gestione dei flussi turistici. E se a tornare sul tavolo la discussione sono vecchie tematiche come l'hoverturism e per chi a tornare sono anche vecchi numeri come quelli di un turismo da record. Territorio Veneto, che è insentato a 2 milioni di presenze, ne vede ben 25 milioni indirizzate al turismo balneare. Non abbiamo ancora ovviamente i dati definitivi della stagione perché dobbiamo aspettare il 31-12, però posso già dirvi che sarà un anno quasi come quello del 2019. Il mese di agosto in particolare, proprio per il mare, nel camping, quindi nell'open air, ha fatto il 97 e mezzo di presenze turistiche, il lago il 93. Numeri record che però presto franno i conti con un altro genere di numeri, quelli del caro Bollette. Siamo sul chi va là per quanto riguarda l'aspetto invernale, perché dovremo vedere se arriverà la neve, capire il tema dei costi energetici, perché gli impiantisti vogliono aprire, però hanno bisogno di un supporto perché le bollette saranno sellatissime. Bollette sellatissime, aumento dei costi, binomio oggi attuale più che mai. Sì, gli operatori hanno già parlato di un aumento dei costi, sia per quanto riguarda gli skip pass e gli stessi albergatori. Sono sul chi va là perché ovviamente non vogliono aumentare le tariffe, ma di fronte a costi energetici di questo tipo sono costretti a farlo e infatti c'è chi addirittura valuta se aprire o meno. Forse in questo caso serve anche un appello al governo per chi agisca in fretta? Assolutamente sì, è uno dei nostri compiti, anzi la prossima settimana avremo gli incontri con i vari ministri di riferimento, tra cui chiederò un incontro anche col ministro del turismo, anche tramite la commissione regionale che noi abbiamo di tutti gli assessori al turismo, proprio per chiedere di intervenire in maniera straordinaria sul tema delle bollette. Grazie a tutti.